Cosa è la chirurgia protesica? Con la possibilità di mobilizzare i pazienti in giornata dopo l'intervento, deambulazione il giorno successivo e dimissione nel giro di un paio di giorni. Questo consente un recupero più rapido e un ritorno alla vita normale più efficace. Qui in Santa Caterina da Siena ci occupiamo del trattamento chirurgico delle patologie degenerative di anca, ginocchio e spalla. Ormai questo tipo di patologia si tratta quasi esclusivamente con l'impianto di protesi di nuova generazione che hanno un minore impatto chirurgico e consentono un recupero nella vita attiva molto più efficace. Presso la casa di cura Santa Caterina da Siena ci occupiamo di chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla. Questo consiste nell'impianto di articolazioni meccaniche che sostituiscono la cartilagine degenerata per ragioni anagrafiche o post-traumatiche. Questo consente un recupero dell'attività quotidiana, il miglioramento di quello che chiamiamo activity daily living e la possibilità di una ripresa dell'attività lavorativa e sportiva in maniera più efficace, in assenza di dolore e con un carico meccanico ripristinato. In Santa Caterina da Siena ci occupiamo della traumatologia dello sport. Questa è nata negli anni 80 negli Stati Uniti ed ha avuto come base la possibilità di utilizzare degli endoscopi a fibre ottiche che consentono di ridurre le incisioni chirurgiche consentendo di visualizzare le articolazioni con delle tecniche di mini-invasività. Questo rispetto agli anni 80 consente di recuperare dal punto di vista sportivo gli atleti e dal punto di vista dell'attività quotidiana magari personaggi che vogliono continuare a fare attività sportiva anche in età più avanzata. In Santa Caterina da Siena utilizziamo sicuramente la chirurgia mini-invasiva per quanto riguarda la chirurgia protesica di anca e ginocchio ed utilizziamo ormai da tantissimi anni la chirurgia mini-invasiva artroscopica con l'ausilio dell'artroscopio nell'ambito della traumatologia sportiva, in particolare del ginocchio, della caviglia, della spalla e del gomito. Questo consente un recupero estremamente rapido. Grazie. 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 Grazie.